Ciao popoli lega nerd, io sono Gabriella e bentornato a un nuovo appuntamento con Binge Stream, la nostra rubrica a tema film, serie tv, docu-serie, documentari, tutto quello che passa per le nostre piattaforme on-demand preferite e non solo. Oggi parliamo dei Mitchell contro le macchine, nuovissimo film d'animazione originale Netflix in arrivo sulla piattaforma il 30 aprile, prodotto da Phil Lord e Christopher Miller, rispettivamente creatori e produttori di The Lego Movie e Spider-Man Into the Spider-Verse. Prima di andare oltre, iscrivetevi al canale YouTube di Lega Nerd, attivate la campanella per restare costantemente aggiornati con i nostri video. E adesso è tempo di bingiare. Sicuramente fin dal trailer il film, i Mitchell contro le macchine, mi avevano dato delle sensazioni più che positive, ma adesso che l'ho visto posso solo dirvi una cosa, l'adorerete. Se avete amato la commissione di genere di animazione di Into the Spider-Verse, se siete dei fan delle apocalisse robot, se odiate i furbi e avete un super occhio per le citazioni cinematografiche, allora questo è il vostro film. Diretto da Mike Rianda e Jeff Roth, il Mitchell contro le macchine ha come protagonista appunto la famiglia Mitchell, una famiglia americana completamente atipica, molto diversa dalla classica famiglia mulino bianco. Sono goffi, sono eccentrici, non sono coordinati, sono incredibilmente imperfetti, ma proprio per questo li amerete. Il tutto viene raccontato dalla figlia più grande, Katie, aspirante ed eccentrica videomaker, che finalmente può realizzare il suo sogno più grande, andare alla scuola di cinema. Entrare a contatto con la gente che condivide il suo sogno, potersi migliorare come videomaker e soprattutto sentirsi per la prima volta a suo agio e non più un'estranea, un alieno e mezzo a tanti. Quanto ti capisco, Katie, visto che questa sarà l'ultima possibilità per i Mitchell per stare tutti insieme, quindi fare un bel viaggio di famiglia, perché non accompagnare Katie al college? Soprattutto per dargli occasione di recuperare un po' quel rapporto padre-figlia che con l'adolescenza è andato un po' perso. Quel gap generazionale, quell'inevitabile cortocircuito comunicativo che porta quasi su due strade opposte, genitori e figli. Soprattutto quando di mezzo c'è la creatività, mestieri non troppo sicuri e speranze da parte dei genitori disiduse. Del resto è solo un viaggio in macchina, cosa potrebbe mai andare storto? Tutto, a cominciare dalla ribellione delle macchine, partita proprio da un'intelligenza artificiale, PAL, doppiata in lingua originale del premio Oscar Olivia Colman, che è un po' una nostra Siri, Alexa, diciamo una Skynet più simpatica, e che quindi stanca di essere abusata, trascurata, riaggiornata dal suo creatore, deciderà di ribellarsi e sottomettere al volere delle macchine tutti gli esseri umani. I Mitchell sono gli unici che riescono a sfuggire alla vendetta di PAL, e quindi il destino del mondo è nelle loro mani, una botte d'è vero. Il focus del film è un po' il rapporto genitori figli, i legami reali, quelli che non sono perennemente filtrati dalla luce bluastra che abbiamo costantemente del cellulare o dello schermo televisivo, o dello schermo del computer. Ma anche dell'abuso che facciamo della tecnologia, senza però per questo demonizzarla. Il tutto è perfettamente inglobato in un mood fantascientifico e che gioca tantissimo con la sperimentazione del linguaggio animato, passando dal 2D al 3D, con tantissime citazioni cinematografiche e la voglia di divertire e mettersi in gioco. È sicuramente un film molto molto pop, dove la tecnica tende ad esplorare il genere, le grandi potenzialità che ha effettivamente l'animazione e che abbiamo visto in azione con Into the Spider-Verse. Film che è stato una vera e propria rivoluzione da questo punto di vista, ma che nessuno ha colto nel modo giusto. I Mitchell contro le macchine da questo punto di vista sperimentano, usano un sacco di gag visive e sceniche molto molto particolari. La messa in scena è sicuramente il punto forte di questo film, che invece si poggia su una trama molto lineare. Non per questo però le due cose si offuscano a vicenda, anzi sono perfettamente in armonia. Si passa da uno stile più digitale ad uno molto più fumettoso, inserendo appunto degli inserti in 2D, contrapposti magari a grande animazione con effetti speciali un po' la Michael Bay. Inoltre il film da punto di vista della storia non vuole essere né ridondante né tanto meno retorico. Il rapporto fra Katie e suo padre Rick è un rapporto all'interno del quale è molto facile immedesimarsi e quindi empatizzare. Il film sicuramente gioca moltissimo sull'effetto empatia degli spettatori, proprio perché parliamo di una storia che nella sua surrealità è una storia metaforica, è una storia nella quale è molto facile scivolare nei panni di ognuno dei personaggi. Anche in quelli di uno specialissimo Carlino che diventerà molto presto il vostro personaggio preferito. Le coprensioni genitori e figli non muoiono mai, sono alla base di qualsiasi rapporto. Spesso è una mancanza di ascolto, di comunicazione, tanto da parte dei genitori ma anche da parte dei figli. È un mestiere infame, sia nel primo caso che nel secondo caso. La razionalità di Rick e la creatività di Katie, se uniti insieme, possono essere la chiave per salvare effettivamente il mondo. Alla fine della giostra la collaborazione è l'asso nella manica. Inoltre, una delle cose che è più adorato di questo film è il suo retrogusto un po' indipendente, come se fosse uno di quei film perfetti per il Sundance Film Festival. Infatti, a differenza dei precedenti lavori di Lord e Miller, sicuramente i Mitchell contro le macchine sono il loro film da retrogusto più indie. Un lungometraggio indipendente animato che vuole anche sperimentare con il linguaggio tecnico. Inoltre, anche i riferimenti presi in considerazione arrivano direttamente dal nostro mondo reale, proprio come l'uso delle piattaforme che spesso e volentieri ne fanno i creativi per poter emergere. La community di YouTube è messa molto on focus all'interno di questo film, così come la cultura dei meme dell'internet, che vengono alternati ad una marea di citazioni che vanno da Spielberg a Cameron, da Giorgio Miller a Quentin Tarantino, passando addirittura per Edgar Wright e Sofia Coppola. Come stavo dicendo prima, la linearità della storia si sposa perfettamente con una messa in scena più coraggiosa e ribelle. In poco meno di due ore questo film d'animazione riuscirà a regalarvi una vera e propria giostra di emozioni, passando dal divertimento alla tensione, dall'adrenalina alla commozione. Un po' d'occhietto lucido non mancherà. L'animazione è molto audace, il design delle macchine ricorda un po' quello di Eve all'interno di Wall-E. ed è interessante come tutto questo venga completamente contrapposto a un design molto più cartonesco invece riservato proprio a Mitchell. C'è una piena padronanza del mezzo e soprattutto della narrazione che passa attraverso le immagini che sanno sia far divertire ma al tempo stesso anche emozionare. Forse non sarà il film d'animazione della vita ma i Mitchell contro le macchine sono un mix di divertimento, anima e creatività. mostrandosi anche come una perfetta metafora sul crescere sul non smettere mai di sognare ma anche di non dimenticarci quali sono le nostre radici e che spesso i migliori compagni di viaggio sono proprio quelli che hanno affrontato questo viaggio fin dall'inizio con noi. Le persone con le quali siamo cresciute, con le quali abbiamo un legame indissolubile ma cui non abbiamo mai fatto caso. Dal 3 d'aprile su Netflix vi posso assicurare che i Mitchell contro le macchine saranno la vera sorpresa del weekend. Voi aspettavate questo film lo conoscevate? L'avete già visto? Fatemi sapere tutto quanto nei commenti qui sotto. Io vi aspetto lì. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Vi ricordo di continuare a seguire Lega Nerd ovviamente qui su YouTube o sul canale Twitch e su LegaNerd.com Io sono Gabriella e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!